Musica Visitare una sinagoga e cenare con un rabbino capo non è certo cosa da tutti i giorni. Una serata prestigiosa e indimenticabile è quella vissuta dai soci dell'Ucide di Monzebrianza che sono stati ospiti a Milano della comunità ebraica di Via della Guastalla. Una serata insieme al rabbino capo Pedazzur Arbib che dopo aver aperto le porte della sinagoga nel cuore del capoluogo meneghino ha illustrato la storia e le tradizioni del popolo ebraico rispondendo alle numerose curiosità degli ospiti. Una serata iniziata con un aperitivo in tipico stile kasher e poi proseguita con la visita del tempio. Un tempio che risale all'Ottocento ma che è stato sottoposto a diversi interventi di restauro, gli ultimi negli anni 90. Un tuffo nella storia, nelle tradizioni e soprattutto nella cultura e nella quotidianità del popolo ebraico, quella regalata dal rabbino capo che ha spiegato le regole principali della religione, l'organizzazione interna del tempio, della società e in particolare della famiglia, ripercorrendo anche il dramma della Shoah. Grande l'interesse soprattutto quando ha illustrato le regole all'interno della società ebraica, l'importanza dello studio, del senso di appartenenza ad una comunità dove, ironicamente, ha ricordato che se sei povero non ti fanno morire, ma se sei ricco non ti fanno vivere, spiegando la profonda solidarietà interna e sfatando anche stereotipi intorno al popolo di Israele, in primis quello sulla ricchezza, ricordando che non tutti gli ebrei sono ricchi, la ricchezza comunque non viene demonizzata, ma il ricco sa che deve dare alla comunità. Anche perché per un certo periodo è stato vietato di vivere a Milano. Questo fenomeno del fietto di residenza è un fenomeno che abbiamo in parecita europea, lo abbiamo per esempio anche a Parigi, a Parigi gli ebrei non potevano vivere, a Strasburgo gli ebrei non potevano vivere. Questo fenomeno fa parte di una lunga storia, di una triste storia, che è la storia dell'antisemitismo. La storia dell'antisemitismo, fra i vari movimenti anti-ebraici che sono stati presi nel corso della storia, c'è stato quello del chiedito di residenza, che era poi declinato in modi diversi, ma con i cadi si poteva risiedere solo per il tempo necessario per lavorare, per uscire, eccetera, eccetera. Milano ha avuto questo periodo di vieta di residenza, per cui i ebrei c'erano vicino a Milano, più o meno, diciamo, un'importanza della lombardina, c'era per esempio il mantolo. Attualmente il mantolo è una comitata piccolissima, in cui non ci sono quasi, nel cresimo, però sono cinquantina di ebrei, in cui è una vita molto regolata. Questa è forse un'altra differenza fondamentale con il cristianesimo. Non esiste sostanzialmente l'aspetto della vita che non sia in qualche modo regolata. L'idea è che ogni aspetto della nostra vita abbia rapporto con la divinità. Non esiste altro della nostra vita che non abbia rapporto con la divinità. Credo che questo sia comune tra ebreismo cristianesimo, che in genere sia comune a qualunque pensiero religioso, a qualunque pensiero è un po' impregnante da questo punto di vista, che si va molto nel pratico. Faccio un esempio. Se io devo mangiare un frutto, devo dirvi una benedizione sul frutto. ci sono le perie quotidiane, ci sono una serie di oggetti sacri che devono far parte della vita di ogni ebreo, così come sono tutti i tefilli, i tefillateri. Non c'è sostanzialmente un momento della vita ebraica che non abbia un aspetto religioso. E questo da una parte può essere affascinante, dall'altra è anche molto impegnativo. ...regole, perché devono temporarie a una serie di regole. Sono tante le regole, non sono poche. E quindi questo è un altro aspetto della versione ebraica. Il fatto che ogni aspetto, soprattutto gli aspetti più comuni, più quotidiani della nostra vita, sono regolati. Dopodiché ci sono i momenti particolari della vita ebraica. Un momento particolare della vita e del sabato. Il sabato è un momento straordinario, un momento di cessazione. La parola sabato, il sabato e l'embraico può dire a cessazione. Il sabato è il momento in cui Dio smette di creare il mondo. È quello che ci viene chiesto di fare qualcosa di simile, di smettere di creare. Anche noi smettiamo di creare. Di sabato non smettiamo di creare. Il sabato è un momento in cui ci si fermano, in cui le attività si fermano, in cui la nostra vita quotidiana assume un aspetto diverso. Un tuffo in una storia millenaria e in una cultura tanto diversa dalla nostra è molto affascinante, che ha catalizzato l'attenzione degli ospiti, i quali, al termine della visita in sinagoga, si sono riuniti in un'altra sala per la cena kasher, introdotta dalla duplice benedizione, quella ebraica del rabbino e quella cattolica di Monsignor Silvano Provasi. Un onore per noi di Prianza Channel essere ospiti qui alla sinagoga di Milano. Siamo in compagnia del rabbino. Per prima cosa, un messaggio ai telespettatori prianzoli. Il messaggio è il saluto ebraico per eccellenza che è Shalom, che non è soltanto... Shalom vuol dire pace, letteralmente, ed è il modo in cui ci si saluta, però la parola Shalom ha un significato particolare perché viene dalla radice Shalem in ebraico che vuol dire completezza, integrità. Quindi il messaggio di pace è il messaggio di riuscire a raggiungere la completezza da tutti i punti di vista. Ecco, è un momento molto delicato da un punto di vista internazionale, terrorismo, ma non solo. Come si vive in questo momento nella comunità ebraica milanese? Si vive con preoccupazione, ovviamente. La situazione è una situazione difficile. Per noi diciamo che lo è da un po' di tempo, nel senso che, come avete visto, entrando al Tempio siamo un po' sotto assedio, nel senso che c'è la polizia, c'è l'esercito, addirittura... È una situazione che è una conseguenza ovviamente del terrorismo, però dura da un po' di tempo. Siamo ovviamente preoccupati, come lo sono tutti gli italiani, penso, come lo siamo tutti. Non ci sono preoccupazioni particolari del momento, se non quelle che abbiamo tutti in realtà. Tentiamo però di vivere la nostra vita senza porci continuamente il problema della preoccupazione. Vede delle vie di uscita veloci o pensa che questa situazione continuerà ancora a lungo? È difficile fare una previsione, è difficilissimo prevedere. Mi sembra difficile che se ne esca così facilmente e così velocemente. C'è evidentemente anche un progetto dietro gli atti terroristici. Dobbiamo renderci conto di cosa abbiamo davanti e usare gli strumenti necessari per combattere. Ovviamente non si combatte semplicemente, non c'è una soluzione militare a una cosa del genere. La soluzione è una soluzione che comprende una serie di iniziative di tipo culturale, di tipo sociale e anche ovviamente di tipo che riguardano la polizia, la magistratura eccetera eccetera.